Ecco a me, carissimi amici, da un po' di anni io desidero ardentemente il giovedì sera, ecco, vivere, rivivere quel giovedì sera quando Gesù è stato con i suoi amici, quando ha lavato i piedi e ha istituito l'eocarestia, ma prima di lavare i piedi ai suoi amici o durante quella serata, Gesù ha provato angoscia, ma ecco adesso mi viene in mente la lavanda dei piedi, Gesù vi ricordate? Lava i piedi ai suoi discepoli, ma perché? Per dare l'esempio, per dire, vedete, io sono il maestro, voi siete i discepoli, io vi lavo i piedi, voi dovete fare come ho fatto io con voi. Allora capite, carissimi amici, che chi non ha ricevuto questa lavanda dei piedi, se io non mi sono lasciato lavare i piedi da Gesù, cioè non mi sono lasciato perdonare da Gesù, amare da Gesù che muore sulla croce per me, io non riuscirò mai ad amare qualcun altro, ecco. Questa è la cosa semplice che dobbiamo capire, ecco perché è importante la preghiera, ma non la preghiera perché Dio faccia quello che diciamo noi, ma la preghiera perché noi possiamo sentirci continuamente, come dice la canzone, voluti e amati da Dio. La Madonna dice, l'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, non perché sono brava, sono buona, no, ma perché Lui, Dio, ha guardato alla mia miseria, alla miseria della sua serva, ecco. E questo stupore, questa gratitudine, quando manca questo, che solamente Dio ci può saziare, solamente Dio ci può dare quell'amore di cui noi abbiamo bisogno, noi facciamo fatica, ecco. Noi stiamo seguendo, noi che facciamo l'esperienza di comunione e liberazione, quest'anno abbiamo iniziato questa esperienza nuova di incontrarci in videoconferenza due volte al mese con il successore di Don Giussani, Don Carron, e l'altra volta, nell'incontro di 15 giorni fa, c'è stata una testimonianza, che io voglio leggere, perché ci aiuta a capire la questione che il Vangelo ci pone, è la testimonianza di una persona che fa l'esperienza cristiana insieme ad altre famiglie, vive l'esperienza cristiana e che racconta questa cosa che gli è successa proprio l'estate, dice prima di partire per una vacanza con delle famiglie della comunità cristiana, io e mio marito ci siamo molto arrabbiati con una famiglia, quindi al limite che non si parlava, famiglie della stessa comunità, e siamo andati giù in vacanza arrabbiati e siamo stati una settimana molto arrabbiati. e tutti gli altri amici che erano con noi insistevano perché noi riprendessimo il rapporto con questa altra famiglia, e noi però non ci riuscivamo, non lo facevamo, non si rivolgevano nemmeno la parola durante la vacanza, perché non ci riuscivano, avevano avuto qualcosa, ecco come ci capita. A un certo punto la maggior parte degli amici se ne sono andati, e quel pomeriggio lì, quando tutti sono partiti, a me ha preso un vuoto, una nostalgia grandissima, ecco come dice la poesia di Leopardi, che vuol dire questa solitudine immensa? Qua è il punto! E mi sono detta, ma anche se questo qui, che io non sopporto proprio, questa famiglia, questo qui, con cui mi sono arrabbiata, venisse a casa mia a piangere e mi desse ragione su tutto quello per cui abbiamo litigato, risolverebbe il problema della mia vita, ecco di lei dice, compirebbe quella nostalgia, quel vuoto che ho. E qua è il punto amici, da lì per me è stato Cristo presente, mi è cambiato lo sguardo, ho avuto proprio una tenerezza incredibile per questo qui con cui due ore prima non ci si rivolgeva neanche la parola. Ho deciso di scrivergli due righe raccontandogli che cosa era accaduto. Gli fa la domanda a Carrone, ma scusami, che cosa ti ha fatto cambiare lo sguardo? Ecco, sentite qui, ritornano le parole di Don Giussani, nessuna decisione può essere presa nella vita se non ci si decide ad essere uomini, e decidere di essere uomini significa sapere e volere, non dimenticare nulla della propria umanità. Noi cerchiamo sempre di scaricare su qualcuno quella che è una nostra insoddisfazione, e una nostra tristezza, una nostra nostalgia, perché non ci compie niente e nessuno, solamente se viviamo il rapporto con Dio attraverso Cristo e Cristo crocifisso, allora noi possiamo veramente sentirci vivi ed essere contenti anche quando le cose non vanno come diciamo noi. Di fatti lei dice, che cosa ti ha fatto cambiare lo sguardo? Il fatto che sono stata sincera rispetto a quello che desideravo io, rispetto a quella malinconia, a quella nostalgia che avevo, ero troppo certa per l'esperienza che avevo fatto e per il desiderio grande che avevo, che quello che mi compiva non era che mi si desse ragione. Io sul fogliettino di Domenico ho messo questa testimonianza e gli ho fatto questo titolo. La ragione è dei fessi, perché amici miei non serve avere ragione, quando io ho ragione, però continuo ad essere trista, che mi serve? La ragione. Noi dobbiamo aiutarci assolutamente, carissimi amici, a scoprire la nostra grandezza. Noi siamo grandi e niente e nessuno può soddisfarci. Ed è inutile giocare a scarica barile, come hanno fatto i nostri progenitori Adamo ed Eva, quando Adamo dice al Signore, quando gli chiede, Adamo cosa hai fatto? Dice, è stata la donna che tu mi hai messo accanto. Ecco, dici, sei stato tu. Ma effettivamente è il Signore che ci ha fatto così grande, come dice Sant'Agostino. Tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto e sarà sempre inquieto finché non trova te, non riceve da te l'amore. Ecco perché concludiamo sempre pregando la Madonna. Dobbiamo pregare assolutamente la Madonna perché lei ci aiuta a conoscere Gesù. Lei è la madre e conoscendo Gesù, conoscendo il suo amore, noi incominciamo anche a vivere in pace con noi stessi e con chi ci sta intorno. Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce. Gesù, tuo figlio, figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Amen. Carissimi amici, arrivederci alla prossima settimana, ma sempre a Dio piacendo e se non dovessimo vederci, mancasse per me. Ciao.